Buongiorno a tutti. Allora noi oggi mangiamo i cavolfiori. Allora come lo mangiamo il cavolfiore? Allora intanto l'ho ridotto a piccole cimette come questo, vedete? Perché? Perché il cavolfiore tira fuori un odore forte forte e per evitare tutto ciò basta farlo cuocere in acqua e sale per massimo tre minuti. Rimangono croccanti perché le verdure non devono essere stracotte quindi rimangono croccanti e nello stesso tempo non tirano fuori il cattivo odore. Però devono essere tutte piccole cimette come queste. Ripeto, massimo tre minuti di cottura. Ora vi faccio vedere come le condisco. Allora verranno cotti al forno, adesso io aggiungo un po' di olio e un pizzico di sale perché prima non ce l'ho messo ma proprio bucissimo perché ho preparato questo composto che è fatto da pan grattato, parmigiano, terri e semi di pinocchio. Ora vi faccio vedere come lo preparo. Allora eccoci qua. Adesso passiamo l'olio, mettiamo un goccetto d'olio, un po' senza esagerare. Così, d'olio. Poi un pizzico di sale ce le devo aggiungere perché non ce l'ho messo in cottura prima, ma proprio poco 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 poco. Ecco qui e poi ci mettiamo tutto questo composto. che come vi dicevo prima, è fatto da panno ingrattato, parmigiano, terri e semi di pinocchio. così, fondante. Poi, dopo che ho tutto il coperto, questo è un buonissimo composto, li metto in forno, preriscaldato ovviamente, a 180 gradi, più o meno un quarto d'ora. Poi dopo vi dirò con precisione. Ecco qui. Adesso aggiungo un altro goccetto d'olio. Così. E adesso lo mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi. Ci vediamo dopo. Volevo dirvi, ho fatto una piccola modifica, siccome sono molto molto volosa, ho aperto il frigorifero e mi sono accorta, mi sono ricordata che avevo delle olive di gaeta e stava per finire un barattolino di capperi sotto sale e quindi ce le ho aggiunti. Ecco qua. Ecco qui. Ora, ho fatto anche una piccola modifica nel forno. Li cuocio a 200 gradi, invece di 180. Poi vi farò vedere dopo il risultato finale. Eccoli qua pronti, belli gratinati con le olive, i capperi. C'è un profumo pazzesco. Dopo li assaggio e vi faccio sapere. Eccolo qua. Guardate che meraviglia. Bello gratinato. Ho preso anche un capperino. Facciamo una prova assaggio. Ci senti tutto? Finocchietto, cappero, curry, parmigiano. Buono buono buono. Provatelo. Buon appetito.